Omicidio volontario premeditato, questo il nuovo reato contestato questa mattina dal pubblico ministero Arnalita Mantini a Vincenzo Gagliardi, il dipendente delle poste accusato dell'omicidio di Carlo Pavone, l'ingegnere informatico di Montesilvano morto il 16 novembre dello scorso anno dopo una lunga agonia in seguito al corpo d'alma da fuoco che lo raggiunse alla testa il 30 ottobre del 2013 sotto la sua abitazione di via De Gasperi a Montesilvano. Nel corso dell'udienza di questa mattina i legali di Gagliardi hanno chiesto ed ottenuto i termini a difesa proprio alla luce della riformulazione del capo d'accusa. Sempre nel corso dell'udienza di stamani è stato depositata l'aperizia dell'incidente probatorio che ha confermato il nesso di causalità diretta fra il colpo di fucile esploso e la morte dell'ingegner Pavone. Prima del termine dell'udienza che è stata aggiornata alle 12.30 del prossimo 21 aprile ci sono state le costituzioni di parte civile dei fratelli dell'ingegner Pavone della madre oltre alla costituzione di parte civile della moglie del 43enne come tutrice dei figli.